È una squadra che come caratteristiche ci può creare dei problemi perché è una squadra che riparte con grande velocità. A livello di gioco fa poco, nel senso in fase di costruzione e sviluppo riesce a fare poco, però sono subito molto molto cattivi e veloci nelle ripartenze. Quindi ci porteranno a giocare tantissimo la palla a noi e quindi abbiamo il rischio di queste ripartenze. Però io penso che se diamo attenzione alle cose che dobbiamo fare in campo e ci mettiamo quella grinda, quella voglia che tutti quanti vogliamo far apparire, penso che abbiamo buone possibilità di fare risultati. La squadra deve dare una risposta soprattutto al pubblico di Teramo perché ci teniamo tantissimo e veramente stiamo lavando tanto sotto questo aspetto qui per gratificare la tifoseria di Teramo. Quindi l'obiettivo maggiore, ma chiaramente anche per il Presidente, per tutti, perché comunque sia le vittorie riescono a far stare tutti più tranquilli e più sereni. Quest'anno abbiamo dovuto lavorare molto sotto l'aspetto mentale e abbiamo dovuto curare molto tanti aspetti. Io lo sapevo, l'avevo messo in preventivo all'inizio di quest'anno e sarebbe stato un anno di grande lavoro per me e lo sto facendo con grande impegno e con grande voglia e sono sicuro che a fine anno saremmo ricambiati del lavoro che abbiamo fatto.